Dall'alba, in Torino e nell'Interland piemontese, nonché Reggio Calabria, Milano e Catania, 400 carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Torinese su richiesta dalla locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 65 appartenenti o contigui alle locali di Andrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, con l'aggravante delle finalità mafiose. Contestualmente la Guardia di Finanza di Torino sta procedendo alla notifica del medesimo provvedimento per ulteriori sei indagati, ritenuti responsabili in seno alla cittata associazione anche di riciclaggio e trasferimento fraudulente di valori, sottoposti a sequestro, beni mobili ed immobili, nonché conti correnti e quote societarie per un valore in corso di quantificazione. Grazie 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 a tutti